Non so dire che sono contento di il mio gruppo, è una grande partita, abbiamo iniziato al 100 per cento e nel secondo tempo siamo stati sempre così. Giovevamo 2-0 ma è lo stesso per noi, dobbiamo giocare sempre al 100 per cento e facciamo bene. Secondo tempo abbiamo fatto come doveva farla, abbiamo fatto gol e poi è andata bene. Voglio dire che il gruppo c'è e siamo uniti e per quello ci sono anche i risultati. Grazie.